ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario prescription diet canine feline ad informazioni commerciali titolare il sped nutrition spa concessionario il sped nutrition spa se sei un professionista potrai trovare le schede tecniche complete e molto altro nell'area riservata di codi fa punto it confezioni prescription diet canine feline a barra di a umido cani barra gatti a 156 g formulazione fegato di suino fegato di tacchino pollo farina di mais suino olio di pesce carbonato di calico idrolisati cloruro di potassio taurina ossido di magnesio vitamine ed elementi in tracce indicazioni per la gestione nutrizionale del cane in convalescenza e con perdita di appetito posologia i dosaggi sono da considerarsi indicativi in quanto le esigenze degli animali cambiano la quantità da somministrare e la durata del trattamento varieranno a seconda delle condizioni cliniche del soggetto adattare le dosi in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale e suddividere in tre sei porzioni uguali da somministrare nell'arco di tutta la giornata fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato